Sì, salve, vorrei un cono cioccolato e stracciatella. Certo, faccio subito. Anzi no, me lo puoi fare fragola e limone. E questo? Eh, non c'è modo di rifarlo. Certo! Rifacciamo subito, non c'è problema! Fumo un cono gelato. Sì, ciao, vorrei un cono, che gusti ci sono? Ah, guarda, qui non siamo alla solita gelateria banale scontata. Qui abbiamo tutti i gusti originali e alternativi. Ah, figata, tipo? Gelato alla cipolla, gelato ai peperoni, gelato alla munguia, gelato al sushi e per concludere, un gustosissimo e delicatissimo gelato al gorgonzola! Poi, gelato alla merda? Due minuti ed è pronto! Allora Jacopo, mi spieghi perché mi hai portato qui? Per farti vedere le ragazze che mangiano il gelato. Dio mio, quanto mi fanno impazzire, sono così sexy! Ma dai, ma sei un purge, c'è 150 anni ancora a fare queste cose, dai! Che purge, eccola lì! Eh, osti, che fregna! Eh, ma dai, ma che cos'è un T-Rex? Parla come lo sbrana, ma con delicatezza! Infatti io non intendevo una cosa così. Eh, dai. Intendevo più una cosa... Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu, gelato al cioccolato... Così... Vuoi assaggiare il mio cono, cucciolotto? Beh, quasi quasi... Ma dai, ma che quasi quasi? C'ha 70 anni! Ma, ma, è un uomo settantenne! Jay! Eh, l'amore non è età! Andiamo, cucciolotto! Andiamo! Jay ha abbandonato la fregna! Oddio, il mondo sta per finire! E voilà! Ecco la sua granita! Grazie! Occhio però, eh, che è molto fredda! Tranquillo, tanto sono abituato a berla! Ah, che freddo! Ah, freddo! È freddo un bel po', eh! Ci vuole un po' a mangiarlo! Oh, ma che denti c'hai! Ma ti mangi pure il ghiaccio? Sì! Oddio! Oddio, sto male! Sto male, non riesco neanche a guardarti! Oddio, sto male! Ma come fai? Ah, mi viene freddo solo a guardarti, che freddo! Oh, Robby! Hai mai visto un unicorno incazzato? No! Io sì! Sì, io ho una coppetta limone e pistacchio, per piacere! E per te? Ah, no, niente, grazie! Io preferisco quelli confezionati! Come prego? Beh, i gelati confezionati! Dai, sono molto meglio, non c'è paragone! Ma tu sei un eretico! Ma un potenziale assassino! Io non concepisco quelli come te che preferiscono il confezionato all'artigianale! Che è pieno di coloranti, conservanti, sminchianti! Il gelato artigianale è fresco, è di qualità! È la qualità italiana! Viva l'Italia! Viva il gelato artigianale! E si potta quello confezionato! Io invece amo il gelato confezionato! E chi se lo mangia? No, ma infatti a me il gelato artigianale è sempre fatto cagare! Ma come? Anzi, chiudo la gelateria! Viva la coppa del nonno! Arrivo, mon amour! Sì! Ed ecco qui, ci siamo! Ecco a te il tuo cono! Grazie! Mangialo in fretta, mi raccomando, che sennò si scioglie! Ah sì sì, guarda, il tempo di uscire fuori è... E la madonna! Eh oh, te l'avevo detto! Sì, ciao! Volevo un cono! Eh sì sì sì, carissimo! Perché a voi la coppetta non va molto a genio! Coppetta? Che stai dicendo? La coppa, la Champions League! Co come mai! Co come mai! La Champions League tu non la vinci mai! Co come mai! Co come mai! Ha una curiosità, ma questo gelato alle fragole com'è? Ci sono fragole coloranti? No no, niente coloranti, solo vere fragole! Eh, e questo qui è il limone? Solo veri limoni bio! E questo è l'anguria? Ah, solo vera anguria italiana! Ah, e questo qui è i puffi? Solo veri puffi italiani! Ho uccisi io con le mie mani! Quei nani bastardi! Visto che sono a dieta, starei su una coppetta, perché si sa, è il cono quello che fa ingrassare. Quindi, tutti i gusti light, io andrei con menta, cocomero, limone, fragola, albicocca, cocco, mela rossa, mela golden, mela verde, uno mattina, sereno variabile, mirtilli e pere. Un po' di panna? No! Panna! Sei pazzo! Però che io sono a dieta, eh! Casomai è giusto un toccettino di cioccolato fondente che tanto non fa ingrassare. Meno male che sei a dieta, altrimenti qua chiudevo la gelateria! Sì, ciao! Vorrei un cono pistacchio, stracciatella e nocciola. Certo, te lo faccio subito! Ah, se posso chiederti una cosa? Se mi metti prima il pistacchio, poi la stracciatella e poi la nocciola? Perché altrimenti non sento bene i sapori, se... Ma certo, nessun problema! Faccio subito! Ah, visto che ci sei, potresti mettermi prima uno strato di stracciatella, poi di pistacchio e poi di nocciola. E poi da capo, pistacchio, stracciatella e nocciola e poi invertito, nocciola, pistacchio e stracciatella. Cazzo sono? Un muratore? Due balconi? Non li vuoi? E ragazzi, questo era Tifi da Gelato, 200.000 like per un nuovo video! Wow, noi ringraziamo tantissimo Carapina e Niccolò Mantegazza che ci ha ospitato per questo video, un applauso incredibile, ci vediamo prestissimo con tanti nuovi video e... Un saluto Pantelliano a tutti! E se avete questo punto dei video, commentate con... Gelatozzi! Gelatozzi!